Massimiliano Virgilio, le creature. Le creature sono nel dialetto napoletano i bambini. E' da dei bambini che questo romanzo di Massimiliano Virgilio parla. Della loro essenza, della loro purezza, anche quando snaturata dalla violenza in cui si trovano a vivere. Periferia di Napoli, in una dimora fatiscente, costruita da una donna che si fa chiamare Leonessa e dal suo Doberman, vivono i fantasmini. Sono definiti così quei ragazzini, figli di immigrati irregolari, nati in Italia ma non registrati in alcun documento, che vengono lasciati in custodia dai genitori alla Leonessa, o a chi come lei ricava soldi illegalmente dal tenere con sé per pochi giorni o mesi interi, questi bambini, permettendo così agli adulti, che li hanno messi al mondo, di andare altrove a lavorare. E' una storia che parla di ingiustizia sociale, di desiderio, di riscatto, di privazione e disperata ricerca d'amore. E' disperante, dura e inaccettabile, come solo la realtà e la vita, talvolta, sanno essere. Adesso mi accingerò la lettura dell'incipit di questo libro. Il Doberman si mise in ascolto. Il suo turno stava per arrivare. Era cieco a un occhio, ma l'udito era buono. Il cicloio degli stivali sul pavimento mi arrivò insinuandosi nella gabbia in fondo al capannone. Il ragazzo si avvicinò e lo colpì con la punta di un attizzatoio. Il Doberman ringhiò. Si scagliò contro la protezione metallica. Oggi è venuta l'ombra e ti è entrata dentro. Malinverno, di Domenico Dara Astolfo è il nome del personaggio che nell'Orlando Furioso va sulla luna a recuperare il senno perso da Orlando. Astolfo è il nome di Malinverno, la creatura indimenticabile nata dalla penna magica di Domenico Dara. Bibliotecari e custode del cimitero, come Temmè va pazzo per le storie, per i libri, per l'odore che emanano le pagine, per come sanno catturarti e consolarti. E allora immagina la scena. Siamo a Timpamara, un paese con una cartiera e un maceratoio. Nei giorni di vento, le pagine dei libri che attendono la fine vengono sparse come foglie per il paese. Si fermano per strada, alle finestre, sugli alberi, e chi le trova e le legge se ne impossessa. Ne perpetua la vita, donando ai figli in arrivo il nome del personaggio stampato sul foglio recuperato. E così a Timpamara c'è Achille, insieme a Godot e Agamemnon, c'è Victor Hugo. La genialità di questo gesto è una celebrazione dei personaggi, del romanzo, della letteratura, che fa sorridere ed emoziona. La scrittura altissima che permea ogni pagina è un dono prezioso per il lettore, che non può fare a meno di riservare nel proprio cuore, per sempre, un posto per Astolfo Malinverno. Adesso, infatti, ne andremo a leggere un pezzetto. Quando venni al mondo avevo 12 anni, 5 mesi e 164 ore. Perché non nasciamo il giorno in cui vediamo la luce, nell'attimo in cui braccia sconosciute ci trascinano nell'infinito e indecifrabile corso della storia. Ma molto prima, quando il pensiero di noi si è insinuato nella mente ancora libera di uomini e donne, quando il nome di un essere inesistente appare nell'orizzonte sfumato di una vita possibile. Siamo fatti di pensieri più che di carni. Solo un ragazzo di Elena Barbello Sara e Pietro, Angela e Amelia, sono i quattro superstiti di una famiglia che da anni orbita attorno al vuoto lasciato dal figlio, dal fratello, dal ragazzo senza nome che è il protagonista di questo istruggente romanzo. Ragazzo mite e gentile, che convive, nascondendoli, con i mostri che gli divorano l'anima, rubandogli quello che ha il suo posto nel mondo, rendendolo estraneo a chi è più vicino e dovrebbe conoscerlo, portandoci al pronunciare in preda al panico e alla disperazione, chi sei? Chi siamo tutti? Sembrano chiedere queste pagine, in cui, con una forza rara, l'assenza si fa tangibile, ogni presente, indimenticabile. E chiudendo il libro, non smette di esistere il potere evocativo che la scrittura di Elena Barbello possiede. Tanto da sentirlo accanto, il ragazzo dei boschi, ancora un po', il tempo che serve a chiedergli perdono, per non aver capito e previsto, per non aver trovato il modo di insegnarli a salvarsi. I ragazzini che la trovarono avevano con sedo e bombolette spray, qualche moneta, un accendino e sigarette rubate ai genitori. La scuola era finita, l'inizio dell'estate. Avevano imbrantato il muro di una stalla e la sala cinesca di un vecchio ristorante, scrivendo parolacce. Avevano comprato quattro ghiaccioli. Li avevano socchiati davanti alla vetrina del bar Gioia, guardando l'automobili passare lungo la strada appena fuori cave. Un ampio rettilineo, l'asfalto che friggeva. Lei, l'unica femmina del gruppo, se ne stava in disparte, all'ombra della tenda Parasore. Una cascata di capelli ricci e un top rosso ciliegia, con le ginocchia al pento su una sedia di plastica. Laura e mei Messina, quel che affidiamo al vento. Il telefono del vento si trova in Giappone, non è collegato a nessun cavo, ma chi vuole può portarsi la cornetta all'orecchio e immaginare di fare una telefonata a chi non è più su questa terra. È un luogo per curare il dolore, per superare un lutto, per dire le parole che non si è avuto il tempo di dire. Nel 2011 il Giappone è stato colpito da un violento tsunami, migliaia delle vittime. Tra i sopravvissuti c'è Yui, che ha perso sua figlia e sua madre, e che riesce a domare le sensazioni che la vista del mare dal giorno del terremoto le provoca, solo mangiando del cioccolato. E Takeshi, che è rimasto vedovo, padre di una bambina di tre anni che ha smesso di parlare. Al telefono del vento i due si conoscono e imparano insieme a raccollere le macerie delle loro vite, a farne la base di una nuova esistenza. La voce del dolore diventa in questo romanzo di Laura e mei Messina un sonno carezzevole e che sempre lascia a trema vedere attraverso le sue ombre la luce della vita che rinasce. Ora mi accingerò a leggere il prologo del libro. Un turbine d'aria schiaffeggia le piante del basso giardino scosceso di Belgaria. Per difesa, la donna alzò istintivamente un gomito davanti alla faccia, un curvo alla schiena. Subito però torna un cosciente, diritta. Era giunta prima dell'alba. Aveva visto salire la luce, ma il sole rimanere nascosto. Aveva scaricato i grossi sacchi dalla macchina, 50 metri di plastica del massimo spessore rodonete a tubo, cilindro di nastro isolante, 10 scatole di chiodo d'anello da agganciare alla terra e un martello. Con l'impugnatura, la donna. Con l'impugnatura, la donna.